Qua di fianco invece abbiamo i robot che vanno a fresare dai dischi di zirconio quelli che saranno invece i denti da mettere sopra alle barre in titanio. Lo stesso possiamo fare per esempio con i denti provvisori. Noi possiamo andare a creare dei denti provvisori, in questo caso in PMMA, da mettere in bocca del paziente dopo la chirurgia. Capisci quindi come sta cambiando il mondo? Il mondo sta andando molto velocemente e tutta quella che è la produzione del dentale sta subendo gli effetti della rivoluzione robotica che cambierà completamente il mondo della odontoiatria. Si possono oggi fare impronte ai pazienti di New York, possiamo ricevere noi i file, possiamo creare con il robot i denti e mandarli con DHL o IPS direttamente a New York. Io ti faccio un saluto qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, se sei anche tu uno di quei pazienti che necessita di ricostruire completamente la bocca e certi un centro avanzato tecnologicamente che usa gli ultimi protocolli, troverai qua i riferimenti per contattarci.